Quali sono le novità per quanto riguarda la terapia di combinazione per il diabete di tipo 2? È uno dei temi trattati a Rimini durante il congresso della Società Italiana di Diabetologia. Parliamo di una delle possibili combinazioni, quella di pioglitazone, che è un antidiabetico più tradizionale, con ipoglicemizzanti più nuovi, quali gli inibitori della DPP4 o gli inibitori dell'SGLT2 con il dottor Stefano Genovese. Dottore, qual è il razionale della combinazione pioglitazone più inibitori della DPP4? Il pioglitazone è un farmaco insulino sensibilizzante, cioè riduce l'insulinoesistenza, che è una caratteristica dei pazienti con diabete di tipo 2. I DPP4 stimolano la seccazione insulinica, quindi l'uso combinato di questi due farmaci ci permette di aggredire i due meccanismi fisiopatologici che determinano, che caratterizzano il diabete di tipo 2, l'insulinoesistenza e il deficit di seccazione insulinica. Tra l'altro sappiamo che il pioglitazone ha anche un effetto rilevante sul processo ateroscherotico, nel senso che riduce il processo ateroscherotico che caratterizza i pazienti con diabete di tipo 2. Ci sono dei dati recenti pubblicati sia con citagliptin che con alogliptin che dimostrano che anche il DPP4 inibitori sono in grado di intervenire sul processo ateroscherotico, in particolare a carico delle carotidi. Quindi anche questo dato rafforza il razionale dell'utilizzo di queste due molecole in combinazione. Quali sono i dati di efficacia a supporto di questa combinazione? Che risultati si ottengono? Ovviamente l'aggiunta del DPP4, ad esempio un paziente trattato con pioglitazone, permette di ottenere un'ulteriore riduzione della glicemia e delle malore di emoglobina glicata. Quali sono, secondo lei, i pazienti più adatti per questo tipo di trattamento di combinazione? Ovviamente pazienti, ad esempio, che hanno bisogno di raggiungere un target terapeutico in termini di emoglobina glicata che non è raggiunto dalla monoterapia. Quindi ovviamente la combinazione serve per rafforzare l'effetto sulla glicemia di questi trattamenti. Però stante l'effetto sul processo ateroscherotico di entrambi questi farmaci, i pazienti che presentino ad esempio un'arteriopatia carotidea o che abbiano una coronaropatia possono giovarsi di questa terapia in associazione perché, come ho detto, entrambe agiscono positivamente sul processo ateroscherotico. Ecco, un'altra possibilità è quella di combinare pioglitazone con gli inibitori dell'SGLT2. Qual è il razionale di questa combinazione? Allora, intanto un importante messaggio da dare è che l'utilizzo dell'SGLT2 in pazienti con pioglitazone è in grado di ridurre o di mitigare gli effetti collaterali del pioglitazone. Noi sappiamo che il pioglitazone, tra i suoi effetti collaterali principali, ha quelli di far aumentare il peso corporeo e di dare una ritenzione idrica. Associare l'SGLT2 inibitore significa ridurre il peso corporeo e ridurre la ritenzione idrica. È stato dimostrato in uno studio condotto su pazienti che assumevano metforminia e pioglitazone che l'aggiunta di un'SGLT2 inibitore, in particolare il canaglifosi, era in grado di ridurre il peso di quasi 4 kg. Ecco, in questo caso quali sono i dati principali di efficacia a supporto di questo tipo di combinazione? C'è un altro dato interessante da aggiungere. È stato dimostrato che il pioglitazone è in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari. Nello studio proactive, l'end point secondario, era rappresentato dal classico MACE, quindi infarto non fatale, strocca non fatale e morte cardiovascolare. E in quello studio, il pioglitazone si è dimostrato significativamente superiore al placebo nel ridurre gli eventi cardiovascolari. Ora, con i dati ottenuti dallo studio Empareg-Authman con gli SGLT2 inibitori, in particolare gli empochilifosini, dove si osserva una riduzione significativa degli eventi cardiovascolari e in particolare della mortalità cardiovascolare, una terapia di combinazione con il pioglitazone e un SGLT2 inibitore trova un razionale fortissimo nei pazienti ad elevato rischio cardiovascolare.